Ho scelto di partecipare a Masterclass perché è un'esperienza molto bella che ti aiuta anche a crescere. Sono cresciuto molto bene, ho migliorato l'attenzione, la fiducia verso gli altri, la fiducia in me stesso, perché prima non avevo tanta. Ho imparato a migliorare la concentrazione, l'attenzione negli esercizi. La considero una bellissima esperienza e impari tanto.